Ciao, se non sei ancora abbonato al canale puoi abbonarti tramite il link in descrizione che trovi, ai seguenti prezzi 99 centesimo, 1 euro e 99, 2 euro e 99, 5 euro e 99 in base alle diverse vantaggi che avrete, quindi andate a vedere e se volete abbonatevi per avere vantaggi esclusivi e video esclusivi, grazie e buon video. Buonasera a tutti che avete ascoltato il Medio e ben trovati in questo nuovissimo video, per iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nel suo nuovissimo aggiornamento Medio. Come avete ben visto oggi ci troviamo in una tendenza meteo che ormai sta sempre diventando più ufficiale perché ci stiamo avvicinando anche alla metà di luglio, di giugno. Quest'estate sarà caratterizzata da ondati di caldo tropicale come vedete bene qua nella scritta e continui attacchi d'aria calda. Come possiamo vedere in questi mesi saremo su delle termiche positive, sopra media anche di un grado sulla nostra penisola e di anche due gradi sul resto d'Europa. Attenzione perché invece sulla Gran Bretagna in parte sarà forse anche negativa. di come possiamo vedere anche da questo modello le temperature rischieranno di essere positive sul nostro paese anche di più di due gradi in alcune zone. tutto ciò dovrebbe continuare almeno fino a luglio più o meno quando arriverà ad agosto attenzione una possibile incursione d'aria più fresca di origine atlantica e ciò comporterebbe un aumento di nuvolosità e di umidità e di conseguenza si formerebbero temporali anche localmente devastanti quindi sarà un'estate forse normale o anormale tutto questo bisognerà vederlo col passare del tempo ma di certo qualcosa potrebbe cambiare. Come possiamo vedere attenzione sulla Spagna sulle coste di Portogallo perché quelle temperature potrebbero essere negative anche di circa un grado e mezzo. Andiamo anche da questo modello come potete vedere le temperature sono anomalie positive anche come già detto di un grado e mezzo o due gradi sul nostro penisola invece al centro-sud e sud anche possibile siamo intorno alla normalità. Nel resto d'Europa è un'estate caratterizzata da infocate sempre maggiori infatti come abbiamo potuto notare anche in queste settimane arriveranno già le prime ondate d'aria calda molto intense infatti per la prossima settimana ci prevediamo anche 38 gradi al nord. Concludendo come potete vedere qua un'altra volta temperature ancora positive di un grado. Questo è tutto un caro solito allo strumento Italia facendo un piccolo riassunto ci prevediamo un'estate molto bollente con attenzione ad agosto ancora tutto da decidere ma si prospetta un agosto diverso dal solito. Questo è tutto un caro solito nuovamente allo strumento Italia vi invito ancora a iscrivervi al canale lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi il suo nuovissimo io l'amholde